Oggi siamo profumati, brezza di sale, è pieno di profumi. Devo provare. Eh, perché? Vai avanti. No, non sapevo che si poteva possibili. E' pieno di cose, non vedi? Lo porto a casa, devo provare. Che sia estra... Che bello sta promozio. Che tu sia estra profumato per un attimo, per una giornata.